Marv ti ha chiuso mentre parlavi perché è stronzo Eh sì, lo sono Oggi giochiamo all'ultimo dei nostri Dammi una penna Non era l'ultimo L'ultimo dei nostri mi sembra No, non quella Una penna di che? Quella rossa Dammi quella rossa No, ti giuro no Dobbiamo proprio ucciderli Te, uccidere te Salve, come stiamo? Sto cercando qualcosa con cui uccidermi Benvenuti in questa live E sta live Oggi giochiamo a Mi stavo ribattando con la sedia No, no, no Esatto, l'ultimo dei culi Giochiamo oggi Benvenuti E cambiamo subito su Gioco Così Serena Non c'è più Serena, non c'è più Per avere il sapore di menta in bocca Che vorrei adesso Prendo dell'occhi Prendi dell'occhi? Così È una brutta idea Secondo me è una brutta idea Ciao Marv Allora, però non puoi lamentarti ieri di questa battuta E oggi usarla Eh? Eh? Salve, salve Come sta? Oggi siamo lunghi Guarda Ci stiamo tranquilli Ho allungato la Hai allungato? Così E poi faccio California Torniamo Aspetta No, ci sono Le mie caramelline che hai perso No, non le ho perso Te le chiedo da qualche pa Buon pomeriggio Buon pomeriggio 15 metri Allungamento della chat No, della webcam Ora posso arrivare fino a qua Salve Buon salve Buongiorno Buongiorno Il nuovo gioco quindi È fatta già in partenza Eh beh Eh sì Eh sì Ciao cocchi Matto Allora Oggi giochiamo a Veras o As Premo un tasto E niente Veras o As Let's Behind Veras o As Grazie Nuova partita Quanti Quanti Sottomenu Normale Grazie Nuovi dati Grazie Salvataggio in corso Grazie Se alla fine ti dispiaci Non hai un cuore Eh Lo so Eh No Dai Quanti pollici è lunga la tua web? Come Abbastanza Ma domenica ricomincia a D&D? Molto molto probabilmente sì Diciamo Abbiamo chiesto Abbiamo chiesto E loro ci sono Devo vedere se è disponibile Casa Ma in caso Penso che si possa anche fare Dalla casa di Stefano Lucia Quindi Eh Sì Sì Questa domenica a D&D Tanto ne sappiamo che il vero joystick Nelle mani di serie E tu Eh Tipoli A caso fingendo di giocare Sì Una tazzina fatta con i magneti Per farlo vedere da tu vicino Una tazzina Facciamo così Una tazzina Aspetta Bellissima tazzina fatta con i magneti Bellissima In tutto questo Tanto non state vedendo Non ci state Vi state perdendo nulla Polline State perdendo E oggi giochiamo A Velastovas Che è un giochino Che Non conosci il termine Spippolare No Non esiste Esiste Dammi la La cosa rossa Per favore La penna rossa Grazie Dai Dai Ho bisogno Ecco Le signorine dormono Sì Tomy Tomy Ti voglio bene Ah aspetta Sottotitoli Sì Eh Troppo al comodo Davvero lo stiamo giocando in italiano Ok Sì Volevi in inglese Ne parliamo domattina Ok lo metto in inglese Sano Lo metto in inglese Chi ha la sub La tolga adesso No Davvero ci stavi giocando in italiano No Eh Che cazzo vuol dire No no Eh Devo Non lo so Come lo faccio a arrabbiare Come Ma in italiano No 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 Ma che in italiano Ma stai scherzando Io gioco qualcosa in italiano Secondo te Perché è in italiano Mica è così Mica è così Stai spegnendo tutto Ma perché è italiano No Voglio le farà meglio Simpatici Potrei Eh No Niente italiano Niente italiano Benvenuti In questa live Appena iniziata Come state Tutto bene Eh sì Mi ha fatto vedere La tazza No perché È iniziata la live Ciao cheat Ciao world freak Come state Come state Sì La brucerà No Nessuno ha Nessuna Nessuna Eh Guarda Guarda Tiri i figli Che c'è Lasciami tirare i figli Se voglio Lasciamelo fare Magliere così Ashley Johnson Effettivamente Tra l'altro Sì Sai chi è Ma non è qua adesso E dopo Perché fa La ragazza No Joel È l'uomo Ellie Ellie Fa Ellie Sai chi è che fa Ellie Una di Critica Roll A Ellie Sì La La ragazza Donna Che fa Pike Ma è chiaramente Ellen Page Il chierico del gruppo Non mi importa Alla faccia di Ellen Page No No Quella che ha dato La voce E i movimenti Quella che Di Kitty Carrol Che fa Il chierico Ok ok Sì no Lei è chiaramente Ellen Page Ma non è lei In realtà No So che L'hanno L'hanno fatta Per fare Ellen Page Poi Ellen Page Ha detto Ma io non vi ho dato La possibilità Ha detto No no Ma non è lei Ci hanno messo Un po' di mani sopra Però è chiaramente Ancora lei Quindi niente Era palesemente Inglese Nella zona Degli spiccoli Sì vedi Ma infatti In verità Il pad C'è la Serena E è stata lei A mettere Cosa Ma Torniamo qua Io volevo Il caffè Non c'è il caffè Oh no Non posso Scegliere inglese No niente Davvero No vabbè No aspetta Aspetta Non è possibile Opzioni Sicuro Lingua No ma Ha fatto apposta Così dialoghi Lo mettiamo in inglese In inglese In inglese Testo e sottotitoli In italiano Fatta L'ho fatto apposta Infatti io Era proprio Quello che volevo Te lo dico Non era nell'opzione Ve la sto facendo Grazie Continua prologo Continua prologo Continua C'era lui che parlava Solo perché All'empage Nel Fattrambo Stava collaborando Per dare un volta La protagonista Di Beyond C'è solo Infatti Infatti Sei dimagrito No è la barba Dimagrita Ma cui ascia È la barba Dimagrita Tra l'altro Mortacci a te E a Il bot Chi l'aveva Chi lo diceva Non lo so Non era Non mi ricordo Quel cazzo di bot Non funziona Non funziona Non funziona Perché mi dice Che non ha Accesso ai messaggi Hai spam Ho spammato Su Telegram Sì Sì No Non sei capace Non è che non sono capace Ma allora Gabriele Non dire No Il Che si sta Però i sottotitoli Li voglio Ok Prego È un po' buio Accendi Quello No è perché c'era Quello Ok Ok Stavo chiaramente Dormendo Tra l'altro Questo inizio Lo conosco già Ed è un inizio Molto Intelligente Devo dire Cosa è tu? Ho visto quasi mezzanotte Ho sonno Ma allora È il tuo compleanno Auguri Dai che bello Che brava Che brava bambina Che Come ha fatto ad avere Abbastanza soldi Per un orologio Costano Costano Da un bel po' Benvenuto Almeno otto mesi Il canale Twitch Da una vita Streammo Bene Da nove mesi Cerca Streammo bene Sì Non mi regalare Ma non va bene No perché Se poi fai questa fine È meglio di no Te lo dico Ah twist Vedi What a twist Tra l'altro A proposito di What a twist Abbiamo visto Unbreakable Che non l'avevo mai visto È carino A me piace Ma segui Preparate a piangere No lo conosco Ma tu piaccia Infatti È un Bellissimo inizio Molto Molto curvo Questa parte qua Soprattutto Stimmo bene Ma le nuove Non lo voglio Ci sono dei Problemi Dei problemi Questa è una Buonissima idea A parte che Fare gli specchi Nei videogiochi È difficile Continuo a dirlo Quindi bravissima Quindi bravissima Ren Che dog fa L'abbiamo visto Deluso Cioè io no Te l'hai visto Io no Ma so già Il twistone Però Vorrei vederlo Pa Sei qua So che non sei qua Però Hello Bagno Perché è un quadro Con dei pesci Ah no Che cazzo sono No sono pesci brutti Sono davvero pesci brutti Ma che vuoi È il bagno Sono pesci brutti Posso correre Bambina Eh sì Eh sì Con delle segnazioni Vittime dell'infezione Mostrerebbero Ascolta Bambina Bene dai Bene dai Ed è qua Che ti Levi dal cazzo Si inizia a chiamare Tu padre Ed è qua Che posso iniziare a correre No Padre Quanto brutto No le sirene No dai Padre E sarà di nuovo L'amico Tommy Lo zio Amico Tommy Tommy What are you coming on my way On my way Ok E prendi E prendi Tra l'altro padre Tra l'altro padre E' sotto la porta No Quella cosa si è mossa Non penso c'era il vento così forte Il vento E' potentissimo Che brutta idea Un momento E' aperto E' aperto No è qui Cooper E' madonna Beh Sì è la prima volta È la prima volta Ah Jimmy Non stai tanto bene Mi sa E beh Mai andare al piano di sopra Sere Farricchi la porta Almeno non ti vedono lì Dietro la porta Come uno stronzo E non la rompono Sì Eh no no Non ti spiega Anche se Conoscere Direi che si sa tutti Come va Sì Non conosco la fine Bene Ok Però l'inizio Penso che lo sappiano L'inizio è È un luogo rome Ah Per l'inizio è Per l'inizio è Ah Possiamo Guardare di più Anche questo è bellino Che c'è lei Che si sposta Effettivamente Come giri La visuale Ok Possiamo Scusate la radio E' piaciuto Sì Assolutamente Ascoltiamo la radio Che immagino Non ci sia Roba bella Bene dai Dobbiamo prendere i cd Aspetta tu Vabbè dai Loro stanno bene Ancora Per poco No Non arrivare in Travis County Beh io andrei Dall'altra parte Giustamente Grazie Grazie Zio Tommy Grazie per dire Queste cose Davanti a una Guardina Sono proprio felice Questo probabilmente E' una brutta cosa Brutto Che brutto Che brutto Che probabilmente Queste sono I momenti Peggiori In cui la gente Non sa cosa fare Oh no E' qui il karma E' qui il karma E' qui il karma Proprio Hai proprio ragione E' là L'ambulanza Tutto bene Dici E' questo E' il problema Di tutta la gente Che sta in auto E' ovvio che Tutti hanno avuto L'idea Dai Sto sentendo Oh che cazzo Quello non l'avevo visto All'ospedale Tipo Bello Sai cosa Sai qual'è il problema Saref E' questo E' questo Ecco qual'era il problema Eh sì Eh sì Sono anche dietro Le cuffie al contrario Scusate Merda Aia Aia Scusate per la coperta Non è Papà Papà Oh no Dimmi che sei vivo Papà Dimmi che sei Ah sì è vivo Che bello Che bello Tra l'altro Sai che i produttori Ah scusa Sai che i produttori Volevano mettere solo lui Nella Davanti Nella copertina Sì E gli stupi Proprio portatori hanno detto Ma anche col cazzo Visto che Sai E' un po' importante Il tutto E' niente Scusate Era un mattone Che ha preso Vieni qui baby Vieni 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 Gli hand Oh my god C'è C'è Il mio legno Scusate Oh baby Scusate 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 Oh my god Scusate 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 Non posso correre di più 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 No non è morto No non è morto E' una bimba in braccio Si no ok Ma perché questa qua è la ferma Ma cosa sto vedendo Scusate 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 Guardate se mi fermo Oh no Oh no Eh ma va Niente Quanto Quanto riescono a Direzionare Un bel po' Salve salve No va via No Ciao Non fare il caffè Sì No no Non fare il caffè Dicevo Quanto riescono a direzionare Un bel po' La visione E' molto bello Ora non c'era bisogno di andare di testa contro il bidone No No per niente Oh madonna E' morto Eh si Pensavo salutavi Tenmar Ciao Tenmar Immagino di qua Immagino Open Sì sì Lo so Ten Lo so Sì 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 No Ciao amica Sera caverà Certo Certo D'altronde è solo circondato da Tutte cose Tutte cose E' un attimo Bimba Oh no Oh no Ah che male E' niente è andata E' finita Siamo morti Siamo morti Sono morto davvero E non ti dovevamo afficare Eh grazie a caffè Non posso correre Sì sì Tutto bene Tutto bene Cioè ci hanno appena ammazzato Salve Sì sono appena morto Perché questo qua ha deciso di alzarsi E ti guardavo indietro E volevo capire cosa cosa succedeva Bene dai Poliziotti Ok Sto fermo Sto fermo Ehi Nevevo aiutare Stop E' la mia donna E' la mia legge è morta Stop là Ok Sto fermo E' sì che ci serve un biologo Eh scappa E' niente E' incredibile come ha colpito solo tua figlia però No? Che cazzo Che cazzo Sì però c'è anche il tipo No? Potevi almeno sparare prima in direzione del padre No? 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 Ha colpito la spalla Eh madonna Ah è vero al Sara E' niente Baby Che brutto No? No? No! No! Quanto non essere sempre più triste sto ב libro o no? si danno forte gli occhi Gabriele ma è già morta? si fren ah no 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 è la prima volta è la prima volta vabbè metto hai tempo quasi quasi alcune cose tipo l'inizio l'avevi visto si ok 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 fino a dove sai di storia penso un po' qua un po' là ma si no non conosco tanto forse la prima parte di appunto estate ma non non l'ho seguita bene intanto so che passano vent'anni vedi si certo diverse volte l'ho anche quasi platinato beh dai è comunque una bella casa no eh no ma c'è un microfono va bene salve amica donna con l'alcol con l'alcol e l'alcol ho non mi c'è tess se tu volvi Sì Sì, guarda, erano un po' di nobodies, non importa, ciò che importa è che Robert li sentì. Oh no! Quindi dobbiamo uccidere il nostro Robert. E' un figlio che è smart. No. Ma è? Ma come si siete in italiano? Però ti ho perso a vedere l'inizio in italiano. Allora... Quindi andiamo a uccidere il nostro Robert. O a parlarci, quantomeno, e dire... Oh! Robert! Sì. Beh. A parlarci! Sì. Va bene. Dicevo di là. Buon nittle down, ok? Bene, va. Ben tornato da tanto. Ben tornato, ben tornato. Che bell'idea. Posso parlare appoggiati un po'. A parte. No, la volare all'esterno, non penso sia una buona idea. Per il mio cammino. È un'altra parte. E' un'altra parte. Non penso che... Va bene. Ho avuto un un numero di HOT. E' un'altra parte. Vedo l'interno della linea. Tocco la rassata. Non penso che è andata. Sì. È un numero di FHIER. E' un numero di HOT. ora fanno uccidere gente? quello la muore? perchè doveva morire? quello la muore! perchè è di colore? hanno chiaramente la faccia da morti no? è pulito oh no aspetta amico questa qua muore, subito avevo detto, aveva la faccia oh no quanto quanto brutto eh non penso fai tanto male oddio ho perso la tipa, ah no è qua ok sei appoggiata e doveva fare quattro ore scusa volevo vedere qualcuno morire, mi mancava mi piace non c'è niente da vedere non c'è niente a cavolo sono stato fermo 40 minuti che gente urla i propri cazzi qua in questo gioco non so non è possibile non è possibile salve quello sotto non l'ha neanche guardato Ehm, madonna, no? Penso che non si passerà. Ah, ok. Il leono per correre. Non lo capirò mai, il leono per correre. Dai, dopo un po'. No, no. Il girarmi me lo dimenticherò sempre, te lo dico. Oh, calma, eh. Eh, sì. Una fiaschetta. Ah, no, un kit medico. Faccio il ferito di un kit medico. Ah, il kit medico del tempo, usarlo quando sei assicuro. Ah, che male. Tieni il kit medico. Ah, dammi un kit medico. Ho un brufoletto qua e ho beccato perfettamente l'angolo della scrivania. Malissimo. Ah, equipa già. Ok, ti hanno premuto R2 per iniziare a usarlo. Ok. Ah, devo farlo ora. Ok, ci metti una vita a farlo. Va bene. Un kit medico del mitico. Facciate il polso. Ma stai scherzando? Voglio chiaramente ucciderlo, non so chi sia. Ma voglio chiaramente ucciderlo. No? No? È chiaro. Ho solo usato. Noi patrolli. Ma dove sei andato? Vai a pagare Robert una visita? Tu anche? Chi altro sta cercando? Uh, Marlene? Lei ha chiesto, cercando di trovare... Marlene? Cosa bisogna i Fireflies con Robert? Pensi che lei mi ha detto? Beh, cosa le hai detto? La verità. Non ho capito dove sta andando. Sì, vediamo. Grazie, amico. Oh, ancora c'è qua. È vero! È buono! Vero! Guarda che bellino! Un bel tocco! È la. Ehi, ragazzi. È la. La piazza è stessa qua. Come stiamo guardando qui? È stato buono. 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 No? No? No, non è sotto il divano. Ah, chiaramente qua. Ok, va bene. Questi libri... Ehi, che si nota! Dami una mano con noi. Questi libri, cavolo... Blocano... Ascoltano tutto. Aiutano tantissimo. Oh no, la bottiglia! Ok, non è caduto. Ciao, faccio facile a te. Quanto salto nel buio! Io mi sono già rotto a quattro... Non vedo nulla! Oh, grazie! Quanto buio! Troppo! Dai! Prendiamo l'attrezzatura! Ci sto! No, 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 no! Bravissimo! Olio cuore! Olio cuore! Non mi battere! Quindi pistola... Respiratore... Flash! Flashlight! Maschere! Ah, maschere baffa... Non il respiratore, eh! Beh... Attendo R2! Ah, per ricaricare! Non me lo ricorderò mai! Vabbè dai, dopo un po' che muori! Ti fanno un'ispezione sarà molto divertente, effettivamente! Che cos'è quello? Un buco? No! Sono dei bri... Eh, volete... Ok... Non mi avevano detto avanti e X per farlo! Beh... Beh... Che devo fare? E ora qualcuno lo uccide! Non in giù! Può correre! Non posso! Che bellino! Chi è? Lynn! Quattro mesi! Grazie mille! Buon pomeriggio, buon anno nuovo a tutti! Buon anno, buon anno! Grazie per i quattro mesi di sabato! Sto camminando! Cala! Posso cercarla? Posso correre, posso correre! Cala! Qua no! Cala! In vent'anni! Un po' di... Può arrivare... Cosa? Nelle tre! Ah! E c'era la... Sempre questo problema dell'erba alta! Sempre il problema dell'erba alta che non vedo ricorda! Secondo voi... In vent'anni! In vent'anni! Può diventare effettivamente così? Sì! La situazione! Così tanto, dici? Oddio, forse quest'albero... A livello proprio di vegetazione, dico! Avevo visto dei documentari al riguardo e abbastanza... Cavolo! Perché sì, cioè... Mi rendo conto che... La vegetazione... Va... Va tanto e... Serve una... Stare attento completo! Non sto più parlando! Non sto più parlando! Una manutenzione continua! Ecco! Però cavolo, cioè... Addirittura questo mi sembra forse tanto! No? Sul tavolo da bigliardo l'erba mi sembra un po' tantino! Eh... Perché l'abbiamo messa in inglese... Quasi dovendo buttare la playstation perché non riusciva! Eh... Esatto! Semplicemente... Abitudine! Abitudine, sì! E niente! Che palle! Volevo qualcosa! Stavo per dire... Aha! E come si accende la luce? No! Vedi? Sì! Sono bravo in queste cose... A guardare ovunque! Come si fa la luce? Come si fa la luce? Guarda anche... Guarda anche il cibo armato... A data bassissima! Ma va? Sì! Ma va? Sì! Ok! Vabbè... Cernobil aveva anche avuto una botta di radiazioni! Sì! Quindi anche per quello magari non è cresciuta così bene la Roma! Sì! 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 Ho visto Airbus in un bigardino! Mi sembrava che sia la luce! Per il suo motivo... Sì! Sì! Questa è la notanzia! Ok! Questa è la notanzia! Questa è la fastidia! Questa è la fastidia! Qualsima! io guardo il cellulare mi è venuto in mente loro che dicono oh no spore si mettono le maschere ci sono dei mostri tutti così che camminano tutti storti con le chele gli occhioni il gioco vi prego qualcuno lo faccia vi prego non lo faccio vi prego qualcuno prendete uno dei brutti mostri di spore con le tutti storti porca puttana vi prego vi prego oh che quelle cose non senso che fanno ridere ecco vedi no shit non dire che bello giustamente signor il dart ci risponda lei dopo quanto la vegetazione prenderebbe di nuovo il possesso della città della città infatti se no mi tocca cercare sul telefono che lo posso fare però tu sei un uomo che sai o facciamoci oggi è una mega quanto bello spore quanto cazzo che brutto l'ho rinstallato in uno dei miei ultimi computer era un che stifo fa proprio chap chap che stifo ha fatto proprio chap chap sono camminato sulle cose bene dai in italia è già così amico no il fatto è che possiamo andarcene e vabbè quanto strano no il fatto potremmo andarcene e risparmiare munizioni però comunque sono sempre dell'idea che se uccidi tutti gli zombie no non hai problemi di zombie poi infatti quindi questo è per l'umanità è per l'umanità esattamente c'è destra o sinistra fare non so io voglio ancora dormire con una gomma da masticare affinno che ti dici tra di qua di là guarda è un vicolo cieco è un vicolo cieco io volevo trovare qualcosa da prendere invece niente amica signorina è la prima volta che gioco quanto grande lei chi togli la vedi in una ventina di anni immagino tantissime piante a crescita rapida come rovi e qualche alberello come 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 ventina d'anni immagino tantissime piante a crescita rapida come rovi e qualche alberello ma appena dai esatto ne so vedi vedi la tipa non era una bimba eeeh si non è non l'abbiamo ancora trovata penso no questa è una ah mi sa dove ma tutti i questi qua ce ne andiamo e basta no mhm bell'idea mettere tutta la nebbia questo vedo non vedo che gli dà la possibilità di non essere incredibilmente grafici non avere problemi di di riposo al massimo? come al massimo? e mai al massimo di censure e comunque ti dà l'effetto giusto quindi è una bellissima idea non era da qua da andare vero? che no quando fai il coso per sentire mezzo qua c'è un muro ah no c'è uno scala che buono proprio quello che stanno dicendo stanno dicendo proprio gnam roba no qua dietro c'è qualcosa sicuro biglietto di un fratello oh sembra una cosa tristissima e leggi magari aumentare lo zoom cosa? quadrato leggi leggi eh fratello ci eravamo quasi sono qui fuori dalla mura e so che non vedrò mai l'interno della zona mentre aspettavamo che il contrabbandiere si presentasse abbiamo sentito una squadra di soldati avvicinarsi infauriti ci siamo nascosti in questo esistice sperando di evitarli nessuno di noi ha notato le spuole che non è stato troppo tardi siamo tutti infetti abbiamo qualche ora un giorno al massimo spero che il contrabbandiere venga lo stesso così da farti arrivare questo messaggio avrei dovuto ascoltarti venire dalla zona quant'è quando non ho avuto la possibilità avrete ascoltarti a vicino di te Mark oh no che cosa triste eh sì però sai puoi anche parlarmi faccia a faccia sì scoppietta un po' l'audio non so perché scusate probabilmente il programma dell'elgato ogni tanto scoppietta di noi ce ne andiamo di qua non ce ne sono altri io non voglio entrare in quest'acqua però che brutta idea donna che brutta brutta idea donna però tu potresti uscire eh ti dico un po' di aria fresca chi stai camminando su una pozza verde eh infatti chi stai camminando in una pozza di acqua stagnante siamo qui bello guarda l'inferno ho capito si secondo voi qua c'è qualcosa qualcosa non c'è stai lì qua ah io continuo a sbagliare per 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 correre devo scendere andarla a prendere figurati se non devo farla ok però o hai delle buone famiglie o muori esatto nell'apocalisse o stai bene fisicamente o muori ed è vero ma sui le famiglie se se salve venga scusami venga bravissima con che forza incredibile signorina madonna fortissima e io come ma tu non vuoi mi passare come me ne vuoi da qua da qua da qua vedi 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 puro pesante ma io l'ammazzo questa no dai dai ci siamo a tuo culo pesante non ci siamo a culo pesante le persone salve si è perso con uno scalino ma si si andiamo voglio cuore che belli questi fiorellini si che comunque io in esiste che basta è marco a te io avrei paura a respirare eh abbastanza è questo quello che succede ma la f***a grazie signorina che mi aspetti sempre non c'è nulla non c'è nulla immagino l'odore buonissimo del frigo staccato per vent'anni va bene come vedete mi dispiace per voi ma sono uno che cerca tutto leggente dai vai amico sta parlando con qualcuno sta parlando con qualcuno lo vedo lo vedo gente gente ciao 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 coso cagnolo Cagnolo! E quindi di qua? Salve amici! Ma è un bel posto. Oh, bel posto proprio. E là? Non sto facendo niente. Se tocchi lo compri. E se non tocco invece? Se guardo e basta? Eh? Madonna! Si può? Aia che male! Eh, io devo passare. Ma scusa, conoscono tutti lei e... Beh, io sono gli ultimi dei miei stronzi. Cos'è sta storia? Non eravamo... Eh? Non eravamo un duo, coppia... Fammi appuggiare i piedi qui. Ma poi dice i piedi qui, i miei che hai credito. Salve! Cos'ho sentito? Ho accorso e poi si è fermato. E infatti... Tocco! Aspetta una cosa, vado un attimo a vedere quel foglio là. Wanted? Chi è wanted? Vediamolo. Una donna? Affiliazione delle luci. Ok. In realtà esiste un tipo di fungo prassita in real life che tocca il fungo e comincia a espandersi e prendere il controllo dell'ospite. Sì, lo conosco. Va sulle... Sulle formiche, in teoria. E i ragni di quell'insetto. Salve! No, tranquilla. Volevo solo vedere la... La... La cosa. Mi dito che è una giraffina. È proprio una giraffina. Ciao. Posso parlare? Non possiamo parlare. Va bene, me ne vado. Grazie. Ciao. Avviso di circo... Eh? Fuck this. Avviso. Sistema di servizio civile. In generale della zona, la quarantena di Boston è fanculo. Saluti. In qualità di civileabile, questo ordine di lavoro ti impone di participare varie attività relativa alla manutenzione della zona di quarantena. Per rapporto all'ufficio principale del... C'è il bridge. Quindi... Ok. Non mi ricordavo il nome Wolfrick, ma so che esiste e che porta... È un po' sì. Siamo. Siamo pure. Infatti moriremo. Ehi, amico tossico! Io bro. Come va? Guarda, la faccia da fossi. È vero che ha dato anche a me quell'idea di questa bambina che farà una finaccia. Un po'. Un po'. Ma tanto? Spero tanto di no. Posso sperare di no? Che belli questi letti. Sopra la piccia. Con un materasso bagnaticcio. La cosa migliore della vita. Quindi ora si spara? Ora si uccide? E' cattivo. Si vede che è cattivo. C'è il coso della pistola. E ancora ti stai su. Ok, il Darth saprà sicuramente le informazioni meglio di noi comuni mortali. Datemi Robert! Oh, madonna! Così? Quanto cazzuta questa donna. Quanto cazzuta? Signor, il Darth se vuole ce la puoi spiegare nella maniera più scientifica e... La persona che ne sa. Amica, coprimi! Aia, aia, aia. Ricolpirti in testa? Che cazzo devo fare? Ah! E niente. Faccio schifo. Ricarica, ricarica. Sono troppo lento. Ok. Grazie. Proiettili? Proiettili, dai, ti prego! Che cuore. Fanculo. Va bene. Datemi un macete. Ciò che ci sono le armi militari. Datenele. Sedi qua. Eh, sì, infatti, è quello che vorrevo. Sì, ma lei è di lato. Perché gli fai... Ehi! Andiamo! Aiutami, però! Donna! Lei è comunque fortissima per non cadere di fascia così. Lei è fortissima. Lei è davvero fortissima. Cosa sta facendo? Stiamo a capire, è fatica. Non era fatica, non era... Stava guardando in lontananza. Stiamo a... No, ma era la mossa. Ah, non so. Ah, c'era la fitta. La mossa fitta. Insomma. Capito. Io devo cambiare i tasti. Io sto cercando continuamente di correre tenendo premuto. Ma poi impari. No, non sto imparando. E la fase che giochi da... Solo 50 minuti imparerai. Appunto! E non riesco a correre quando voglio. È un problema. Il tuo cervello è più intelligente. Non è vero, non lo è. Lo dici tu che è più intelligente, non lo è. Allora, datemi roba... Stealth, piuttosto che... Oh, cavolo. Devo spostarmi? Sì, è il primo. Sperate. Sperate. Ok. Fammi muovere, però. Eh sì, qua è come lei. Muovere, muovere. Amica! Guarda, guarda. Questo è tutto Batman, eh. Ah no, merda, c'è gente là. Questa è stata un gruppo di circa cinque... ... Mamma mia, come sono tutto stelto. C'è l'opzione mattone. C'è l'opzione mattone? Così ci dico. Oh, che bello mattone. Mattone mi piace. Dov'è il mattone? 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 Ma c'è roba. Oh, medikit. Non è un medikit? No. C'era il coso di cosa? Di cura? Mattone? Non c'è un mattone. Niente, hanno smesso. Questo è un mattone? È un mattone ma non lo prende. No, ha un polliccio. E niente. Hanno smesso di fare i mattoni, in verità. Da qualche parte c'è. Vabbè, fa niente. Quindi... Devo craftare le cure. Come? Devi craftare. Devo? Fare le merda di cure. Ah, craftare le cure. Scusa, sono sordo da questo orecchio. Non ci sento, Sere. Se ti chiedo, basta che me lo dici la parola che non ho capito. Basta quella, giuro. Allora ti dico. Ma cosa mi fai? Nooo. In inglese. Manissimo. Hello? Figlia. Posso preparare il lancio? Vabbè. Ok, ora ho una bottiglia, quindi. Puoi lanciare e la gente fa... Posso lanciarla su qualcuno? Sì, ma fai molto. Ah no? Bravo. Per chi usa per attirare la gente? Dove è scomparso l'altro? È là dietro. Oh! Che cazzo? Ah, forse era sceso l'omino. Dai, l'ho presa! Ah, scappa! 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 Ok. Con calma, ok? Non si aspettano mai. No, no, è là, è là. Ok, con calma. Niente, niente, faccio caccare. Va bene? Non troverai tanti proiettili. Non viene a usarli. Oh! Ok, a posto, a posto. Dammi un po' di proiettili, per favore. Per favore, baby! Farà uccidere con altri metodi. Ah, una bottiglia, vedi? Allora. Dammi una bottiglia. Ah, c'è gente. Ok, ok. Facciamo così, guarda. Ok. Aia! Malissimo. Eh sì. È morto. Seriamente. È andato? Ok, forse è andato. Forse... No! Un cazzo è andato! Ah! Non mi vedi? Ma che chiami, gente? Cazzo che fa? Sta proprio chiamando gente. Eeeh... 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 Facciamo così. Ma andiamo! Via! Cos'è questo tan? Eeeh... 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 Cos'è la vita? Un svegno nell'aria. Ok, headshot. Boom! Headshot! Eeeh... Eeeh... Dai! 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 Poco salute! Che posso fare? Eh sì! Ho proprio ragione io! Un coltello! Grazie! 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 Aspetta un strugamento. Vicino al... Ok. Ok. Grazie. Ah, che tra l'altro questi coltelli sono usaggetta, giusto? O mi sbaglio? Non mi ricordo. Mi pare di sì. Potrà? Mi pare sia un'usaggetta. Ah, un utilista. Eh, immaginavo. Medikit, ok. Una bottiglia, ok. Dio. Può essere così complicato? Eh? Giuro. Lo è. Giuro. Va bene, tiriamo su questa serranda. Può potenziare più in altra utilizza, mi pare. Ah, buono. Quindi. Questi non sono allertati, giustamente, da tutti gli spari. Quanto è russo. E' chiaramente russo, lui. Ha la faccia da russo. Eh sì. Scusi, a te si è. Che brutta idea, no. Non voglio, non voglio, no. Che brutta, brutta idea. Che brutta idea. Dove sono i miei zombie? Perché ci sono i miei zombie. Eh, l'ho notato. Eh, l'ho notato. Ok, uno è andato. Può trascinare via il corpo? No, uno è andato a PlayStation 2. Eh? Eh sì, va a giocare. Ah, ok. Mattone! Yeah! Ok, il mattone lo ammazza qualcuno. Fa più male di non bottigli. Un mattone ammazza. E con calma, ascoltiamo. Là c'è qualcuno. Là c'è qualcuno. Ok. Ha detto alla mia mamma di investire nel mattone. Sì. 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 Aveva proprio ragione la tua mamma. Hey, I heard something! Merda quanti! Dai! A usare l'udito, scusa. Ma che ne sapevo io che erano i 70.000! Con l'udito li avresti sentiti. Non è vero! Sono tutti zitti, sti stronzi! Allora! Niente. Eh, una pistola! Ahahahah! Ma scusa! Ma scusa! Tocca a me picchiarti, non ho capito. Come? Ci si può schivare in qualche modo? Eh? Ma... Allora! Mori! Eh, la fece! Oh! Amica! La fece non male! Curati magari! Oddio! Aiutami! Aiutami! Curati di pregio! Via, 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 via! Vedi, curati! Via! Mi cura, mi cura! Oddio! Che è successo? No, 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 non fa per me sto gioco. No, vabbè, ci devi prendere la mano, dai! Devo fare più. Dov'è? Pezzo di merda. Lo cazzo è? Usa l'audio quello nì. Ecco, ecco. Ma... Che c'hai? Let's go! Non ridere! Siete Ok E due no però Siete Fa culo Sì Che male Che è andata Beh ha imparato a usare l'ascolto In le bottiglie Porca puttana si è andata male Proprio tanto Dammi la mazza Dio Dio Mi fai il favore di usare l'ascolto più spesso Sì Grazie Lo faccio volentieri Ciao me lori Oddio Salve Ok Quindi Devo fare Batman A partire dall'alto No io In questi tipi di giochi In cui bisogna sparare A spalla Non mi riesco mai a giocare Mai Prima furiamoci con la donna Che stiamo frepando Sì un cazzo Let's go Un cazzo Let's go Ciao Darth Spero che il cibo sia stato buono Perché questa live sarà E' un po' Un po' Un po' di momenti drammatici Un po' Loris E' stato un po' Ma in verità Ti sei perso solo io Che gioco benissimo Ora scappa Cua Sapevo Come Fa un culo Joe this way Lo prendo con lo stronzo Guarda come lo prendo Con lo stronzo Che bevoglio cuore Che cazzo è andato Non di qua Eh E' niente Che sei detto Di un po' Colpo Di solitari Colpa del bot Wolfric Non siamo stati noi Infatti assicuro Aia che male Che male Vedi se riconosce l'attore Cioè mi dice qualcosa Ma io Ah è quello di Game of Thrones Può essere Ah vedi Ha la faccia effettivamente Molto simile La tua No dai Ha venduto le nostre armi Ma non è il naso Però cazzo Come Il naso Eh sì I luci Ma Ah Ma guarda Era tutto mollo Era tutto mollo È ovvio Non lo conoscevo da prima Che stupida come cosa E ora gli fa Magari non due colpi Non bastava uno Non bastava uno Sicuramente capiranno Chi interesserà Ah vedi La signora del volantino Qua in Firefly Cazzi nostri Ciao Dalla Eeeh Davvero non l'aveva visto Dov'è Robert? No non conosco niente Cioè non nulla nulla Conosco qualcosina Molto poco però Non ci ho mai giocato Facciamo una cosa Ah vedi E beh la bambina Immagino No 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 C'è un po' Vedi Vedi non lo so, sta fastidissimo, molto volentieri, ah ma là c'è roba, stiamo scherzando tutta sta roba? ci muoviamo appena abbiamo recuperato tutto, sì sì, dammi due secondi, aspetta, vuol dire qualcosa secondo te? però hai fatto bene, eh non sì, certo, ho capito, solo perché questa dice andiamo, ce ne dobbiamo andare, chi sei? mia madre, mia madre? non lo sei, ti giuro, e i butter non abbiamo guardato, ma serviva buttarli giù qualcosa? fai casino e basta, allora brava, brava, proprio atletica, proprio atletica e brava dai, dai, ah devo tenere premuto? no, scivolava, era un po' scivolosa la scala bene 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 è questo i tuoi persone? cosa c'è l'altro? cosa credo che mi staccio a te tutti? ah, vedi? è entrata un'altra cosa come? stai bassa, stai bassa! bello bellino ah, vedi? cos'è? half life? questa cosa? pezzi, pezzi! eh, sì basta pezzi sembra di sì non mi dico una mano con questo pezzi e let's go eeeh 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 mi fa piacere che la porta l'apri quella mezza rotta con un braccio solo e non quella in tutta dietro beh, infatti ho fatto enough eeeh oh, son divisa in due e tu mi fai aprire le porte, però dai sì, infatti, come stai? beh, oddio se non dovessi fare tutti sti sforzi che potresti far tu meglio starei probabilmente devo spegnere la luce no, dici che si noti la luce così non lo so, no c'è un po' di luce c'è un po' di luce con l'ombra enorme là dietro sta spegnendo quella luce? spegnila ok, devo arrivare a quella porta cerca di essere un po' più stealth no, no, sarò tutto stealth non mi vedranno nemmeno stai correndo in piedi no, no guarda, tutto stealth ok, là ce ne ho faccio tutto lo stealth ma, per mezzo tutto stealth ok, la c'è due persone penso ok, sono in due ok, sono in due si può vedere di distrarne uno no ok, ma dici di là? eh sì, lanci qualcosa di là in modo che ti diano le spalle esatto così così che c'è due che c'è due che c'è due ma ecco non è possibile no ma ma ah ah che c'è due 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 è fatta è fatta pura no, vabbè colpo buono carregge stealthissimo e fino al primo eri andato bene al primo ero andato bene l'idea era buona no comunque le bottighe hanno l'idea di far più riuscire dove dove do cazzo mi sparano ah da qua ma ora si gira di qua e ti vede farlo correre in line no no non mi vede non sa, guarda non sa dove sono ma ma ah no pensavo cosa rubi a posto? possiamo andare? vedi nessun problema era sospetto si stiamo all'interrutt è probabile era quello il problema sistema ma si mi piace Warren buongiorno noi dovremmo andare Marlene ci sono più soldi in via eh sì abbiamo un attimo all'estate no non è vero in che posto? stanno tutti ormai beh tecnicamente non ho ucciso mezzo beh le facce spiaccicate non penso aiutino i colpi di pistola tipo non avranno richiamato niente nooo è vero non è vero non è vero non ne sai tu le cose non conoscendo neanche le mappe è difficile beh se vedi il posto dell'unito ti dà un'idea sì più o meno non fanno tanto rumore cioè a meno che effettivamente non fanno rumore non è male adesso ma vedi no quello è vero quello è vero vantaggio di nulla vedere attraverso le pareti qua c'era ah non so non penso ah arrivo eh va bene un po' più avanti attenzione curfew è ora in full effect nessuno è morto merda quanto e ora c'è la ragazza immagino non vedo niente da poter prendere bello ma non è possibile che anche per aprire una porta non c'è niente dietro no? col coltellino così? che che non c'è niente non c'è niente non c'è niente no c'è niente che cosa succede? non preoccupare questo è riuscita ho bisogno percibare ma non posso venire con te e ti senti pai io volevamo belli noi non si 받amo non ho bisogno chè si stiamo chè c'è un pò che si troha che ci si trovi pot? ci sono ne non ho bisogno chi è no c'è ne ho bisogno non ho bisogno si chiediamo Wow, I don't think that's the best way to do it. Ellie! Ha! Tecnicamente tu l'hai lasciato a gente brussa male, quindi dai. Quanto calda hai le mani? Stai male? Presti. Vai con lui, ora. Vai con lui. E tu, stai vicino. E tu, stai vicino. Let's go. Va bene, dai. È vero, Makuyasha? È vero. È veribile. Sta male, sta male. Quindi? Eh, niente, andiamo. Oh. Ho sentito tutta la scelta, ma... No, ma che scelta? Che cosa è? Ho sentito un telefono vibrare. Pensavo fosse nel gioco. Ehi. 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 Dovevo vedere se c'è qualcosina ad attendere, ma... Quanto non è da farsi vedere? Ok. Ehm... Di qua? Di qua, di qua. Di qua, di qua. Vieni, Ellie! Di qua! Non so dove andare. Com'è? Cosa è che c'è? Eh, madonna! Perchis! A qualche oltre 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 oltre... Oh ho... Tocco! Docking! Docking! Ok. Salve! Lassù Come si muove male però, Sere? Quanta forza ha quest'uomo per spostare così un cassonetto Vabbè ha le ruote, magari è vuoto perché non lo usa nessuno da vent'anni Può essere, magari ci sono i cadaveri dentro Potrebbero, potrebbero Ce la fai? No, con calmina eh ragazza Con la calmetta, tanto Temo? Su su? Eh Su su? Brava Brava Ah sì Ok Camminare? Eh, non lo so Morti? Eh già Effettivamente No no, mai fate Chris Allora Non mi lamento Non so la migliore cosa del mio lavoro Eh? Mi sta giù sotto, non si sia più forte a portarla via Eh vabbè Ok Bene Quindi qua? Hello? Is it? Quindi stai qua in questo appartamento e via Sì Almeno chiudi la porta Buon anno Mmm L'hanno di vent'anni Sì che si dorme bene Oh Ancora lo zainetto Cioè non è che poteva togliere No infatti Lui ci dorme sopra Infatti E tra l'altro La dentro c'ho Bottiglie di vetro Mattoni Mattoni Forbici Coltelli Coltelli Non è così comodo Soprattutto mi preoccupa di più la bottiglia e il mattone Oh no Che beveva allora l'odio rotto Che è dopo sua figlia Sì Eh va bene Chris Mumble in your sleep I hate bad dreams Molti brutti sogni Eh 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 Guarda A me piacciono invece Mi diverto così tanto A uccidere la gente di giorno E sognare di ucciderla la notte No? Eh? Non c'è luce Eh? Non c'è luce Eh? Non c'è luce Non c'è luce Eh? Non c'è luce Eh? Non c'è luce A parte tutti i clicker che fanno E ti ammangiano No? Non c'è luce No? No? Non c'è luce E' un po' di più Come gosh Ah 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 ah. No è il mille C'è luce Puoi fare? Eh Oh Di notte? Con la pioggia? No dai Non di notte con la pioggia Penso che è un po' strano che ci stanno facendo la scuola. Marlene voleva farlo con noi. Non ero la prima scuola, o la seconda per questo matter. Ho perduto molti uomini, i peggersi non possono essere chiusi. Non è che mi fa tanto bello. 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 Non è che mi fa tanto bello, questa donna. Per me. No? Cioè io, 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 avrei forse un po' di sforzo. Va beh bisogna vedere se è legno o truciolato, se è truciolato. Si, si è truciolato. Prembrembrem. Così? L'ascensore del dottor male? Che fico Che fico Non è vero Scusa ma vorrei vederci Roba Percorsi pattuglie Oh Ma dici che servono? Safe route, hostile camp, safe now No, no, non penso serva Non penso serva, ma in caso noi ce lo prendiamo Che belle di queste, robe scavate nel cemento Io non ci andrei mai nella vita Ma proprio mai nella vita Per salvarti devi passare di qui E vabbè muo E vabbè, capita D'altronde prima o poi tutti muoiono E in un'apocalisse Chiudersi in un bunker L'unica cosa che fa è morire più in là No No Allora Guarda se ha il suo dito alto se ne puoi parlare Vabbè Come on kid Ma è piccola Cuocchi il step Eeeh 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 Vai vai Le chiamate Quindi Piove su di noi Fa tutto schifo La sotto c'è una Una bottiglia d'acqua Eeeh 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 Magia 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 Oh che bello Sto rumore Il rumore della pioggia all'interno Ma è sempre bello Ora c'è tanta cacca vero Oh Già che male Si Che brutta cosa Che brutta brutta cosa No C'era Ci hanno preso Eeeh Eeeh La seconda Quanto le andiamo a sparare Eeeh Eeeh Mica Eeeh Eeeh Quindi la solita Io sono immune Abbiamo bisogno di portare il suo sangue in giro per cose Bene dai Sì, ora conviene andarsene Eh, dici Eh sì Si corre con L1 Tio, un salto enorme Corri, corri, corri Attento Quanto culo hai avuto Sono bravissimo Faccio le speedrun Bravissimo faccio le speedrun Bravissimo faccio le speedrun Una volta mi va bene una cosa Per favore Hai avuto culo Mamma mia La volta mi va bene la I see him, I see him Musta gotten through Set the fringes I don't know Stay back I don't see anything down there Are we sure they came this way? I don't know Stay down, don't let them see you Ok, guarda Ok, signor 3 Ok, signor 3 Ok, ok, ok Ciuffo Bella questa qua Eh proprio Beh State messi bene Non è colpa mia qua No No Ho preso l'oro Non te Quindi è colpa loro Questa è di cazzo Io non ho fatto niente qua Eh no Non vale Vedi ma infatti non si è attivata tutta la Vai là davanti c'è un muro Non cambi idea vero amico Ti pago Correre dietro l'altro muro Ti pago Merda E niente E scusa Ok, ok Non mi vede Se io faccio così Loro arrivano Ok, sembra di sì Va bene Va bene In qua Dai Fatta Non fai un casino Cosa? Non fai un casino incredibile No per niente Però lo lascia andare Boom Scusate Dai E per forza E per forza Scappatess 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 Eh no, è in terra Scappatess 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 Vedi? Vedi? Sta bene Vedi? Sta bene Meglio di così Gli hai dato una cura Mi ha dato una cura Mi ha dato una cura Ti ha dato una cura Sì sì Sì, è fatta Ok Passa da qua Ragazzi Basta 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 Ok Ok Quello sembra il tunnel tunneloso Siamo sicuri? Sì, sono ancora qui. Ma prendiamo un momento per prendere il tuo cuore. Joel, vediamo se c'è qualcosa che possiamo usare qui. Certo che la boxe. Poi un giorno ti ha angoscia. Va bene, mi curo, volevo tenermelo. Che cosa? Per quando eri morto? Sì, per quando ero morto. Per quando ero morto, esattamente. Ok, allora. Bene, sto al posto. Ok, via. Fatta. Fatta, fatta. Fatta, fatta. Questo? Penso che possiamo farlo qui. Stai molto vicino, Sally. Come fa a scorrere l'acqua? Va bene, dai. Va bene. Quanto non andrei mai in questi posti. Mamma, per niente proprio. Mai, no? No, 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 no. Let's go, let's go. Come on. Ok, eccoci. C'è ancora uno che li prende. Ah, grazie. Beh? Sempre tutto molto silenziato. Molto, tutto molto silenziato. Nessuno l'avrà mai sentito. Brrrrrrrr. Allora, lì è morto. Eccoci. Eccoci. Qual era il progetto? Diciamo che ci renderemo ai Fireflies. Che poi? Marlene... Ha detto che... hanno loro 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 un'inizio di quarantena. Con i doktori ancora cercano di trovare una cura. Sì, abbiamo ascoltato prima, non? Eh, effettivamente. Eh... Effettivamente. Sarà abbastanza merda. I get it. No. Abbastanza abbastanza. Sono tutto incuriosito. Con la faccia incuriosita. Suono. Suono. No! Uh, che bello! Eh, no! Per niente. Cosa? Per niente. Per niente. Per niente. Bene! Per niente. Per niente. E' un po' di niente. Per niente. Per niente. che fatica non era tanto bello oppa la la quanto magari hanno preferito un suono un po' che bell'idea che bell'idea proprio no anche esteticamente è molto bello lupi? erano lupi? erano lupi? non lo so che brutto cratere ah vedi bisogna arrivare a questa messa posso lanciare? e se vuoi morire? forse si salta Diego no no dai vado 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 porto dietro Ellie magari salta sul lato più fino a se ti fai meno male forse ci si spezza comunque di qua di qua ciao wasabi ho l'impressione che dovremmo passare per questo bellissimo edificio sicuramente non rotto immagino ah vedi wasabi? eh? in verità a me da 68 adesso ora hai fatto la battuta e sono scappati bravo bravo ehi Tess veniva c'era un cassetto non c'era un cassetto non c'era un cassetto pensavo sterare qui sta? faccio roba? tutto verde guarda che rob dimmi te che? ma cappittana mmm da poco anche sembra è È abbastanza fresco. È così male? Sì, potrebbe essere. Dobbiamo non stare qui. Con molta calma. Vedere come faccio una retura di lavoro? Sì. Sì o no? Come no? Non ti interessa? Almeno. La casa? Esattivamente. A parte che non vorrei una casa qua. Beh, adesso neanche io. Non sembra così conveniente, diciamo. Che fastidio che è tutto storto. Una nota? Registro delle operazioni? Registro delle operazioni. Arrivato alla griglia bla bla. Contatto negativo ALZ. Spostamento pattuglia ovest verso il centro della città. Contatto negativo. Contatto fottutamente negativo. Bene, dai. Segnale al contatto visivo e auditivo con infetti bla bla bla. Secondo stadio vicino a un palazzo crollato. Ci muovemo per investigare. Contanti infetti multipli. E poi il sangue. Sì. 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 Io lo voglio guardare. No, io voglio guardare tutti. Guardi. 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 Bello. Quanto ti devo baciare ogni volta. Eh? Mh mh. 10 sub. Grazie. Ah che cingo. Guarda che bello. Allora. . Arcon ha eh. Regalato oltre 10 sub. Grazie mille. Grazie mille. Quanto ti slinguazzo. Quanto bello che- Arcon ti devo slinguazzare. Quanto bello. ثare. Grazie mille. Allora. Remigio il Gatto Grigio. Daniel Owl. alborg il biondo ferro matte poi o poi o poi squizzo l'alice cin tutti voi avete ricevuto un abbonamento poi o poi o poi ti ha fatto ridere tutti voi avete ricevuto un abbonamento a livello 1 da arcon che va e ora io vi devo mandare e un link di telegram per il sub è è è però non tirarmi una scarpa allora mettiamo questa quanti problemi ok vedete arcon è uno che che vuole essere sviluppato vuole vuole però la prossima volta un dizionario vuole potrebbe aver senso allora ora vi mando appunto la senti senti vi mando il link per il telegram e sta abbiamo remigio iniziamo con remigio il gatto grigio io e daniel parlavamo vent'anni fa i tempi ma va sì come no come no è vero allora remigio 1 poi abbiamo daniel appunto venite sul discord dei sub che facciamo delle partite interessanti dai giochi esatto 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 allora io mi sto un attimo incattando incattando avevo detto senti siamo così siamo così siamo così così vedete anche voi lo vedo anch'io lo vedono tutti e tutti allora daniel daniel stava per cadere non ridere non ridere poi daniel poi al borg al borg al borg al borg proprio proprio lui e c'ha fin fio poi poi il biondo il biondo da un alcolico che fa impazzire io ti tiro la scarpa perché perché poi non è vero 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 io per un pochino mamma mia vero poi sonno lei ha sempre sonno no poi matte allora scusate ragazzi ci mettiamo una vita perché qua vedi niente doppio matte perché si poi a uno gliela devi sempre inviare sempre 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 allora poi 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 chatta via poi 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 io poi io sguizzo cosa ridi cosa ridi cosa ridi cosa ridi cosa ridi intratteni intanto che io faccio il tuo lavoro stai dicendo via caldo l'allish e cin allora l'allish perfetto e tutto questo c'è gioia che sta guardando un cadavere però niente ormai è infetto esatto è chiaramente infetto dice ah vedi vabbè capita l'allish e il signor cin che sei bello sono felice guala grazie grazie a con davvero davvero è questo no questo lo mettiamo così ok eccoci qua vediamo quando vuoi vedi vedi ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci sia dire la verità no non vuoi essere slinguazzato non vuoi essere slinguazzato secondo me sì secondo me lo vuole perché tanto prima devi trovarmi e per essere slinguazzato non staccarlo non staccarlo è una brutta idea e guarda le spore e infetto e io avrei messo la maschera io cavolo se no ma io voglio adesso andare un attimo su c'è roba c'è roba vedi vedi che faccio bene salto ah le caviglie le caviglie perché salve salve allora comunque benvenuti a tutti eh benvenuti a tutti ma anche con l'occhiere c'è roba vedi vedi che come serve se c'è roba vedi che tickianco o non ci sia roba vedi che c'è roba vedi che c'è roba e ti c'è roba i tuoi più giudici che ricorda dei ciascari qui perché inizioni che ho fatto a tutti cioè le ciascari qui conoscevi più di meno da noi like io quindi quello che mi dobbiamo altri yogi ci sono stati oh no! niente quindi stiamo per morire? vedi? perché il resto delle forbici gli servivano. ah mi sembra giusto. o faccio la tazza. le... no la tazza! le pillole le usi per potenziarti le cose. ma che senso? la tazza ha subito dei gravi. oh no! tazza! come vedete sempre il range dell'udito? ah ok. che brutta idea! ah! no 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 no! sembrava un tipo simpatico. che brutta brutta idea! Premiamo per cercare Ho capito Per creare Non per cercare Tavolo Sempre due colpi Double tap Serve il double tap Grazie Grazie donna che mi dai Una cura dopo l'altra No no io non voglio andare là Voglio prima aprire questa stanza Si rompe Va bene Ci sarà roba dietro Per forza dai Vedi Vedi ho preso le cose da dietro Però ho i proiettili al massimo Ho i proiettili al massimo No qualcosa al massimo Te lo sto Va bene dai Ma non puoi craftare roba Allora Ah è questo che posso portare Ho capito Vende uno a questo Ah sono le uniche due cose che posso fare Ok Ok E con questi Vede le Va bene Quindi io direi Mi ricreo una lama E un coso Si Si Penso che ha senso Continuare a craftare roba Già solo per Il liberarti L'inventario Per prendere altro Semplicemente Ok 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 Una bottiglia Presa Mai buttare via la bottiglia Voi cercare di non sprecarli Beh si vabbè Mi sembra giusto Io di qua Vuoi non passare di qua E vedere cosa c'è Non lo volevo vedere Guarda Guardaci Tra l'altro Quello là Cioè come è morto Per finire così E come ha fatto la gamba Non cadere Cioè E' tenuto su solo per le gambe Il calchie ed è incastrato Funziona secondo me Scusi Prima volevo un attimo Ma non si passano Dire di no Ok Arrivo 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 E Tra l'altro Una cosa molto importante All'interno dei videogiochi E' Creare queste cose qua Questi gialli Ok Che cose tutte gialle Servono proprio per Dare al giocatore Conoscenza Che quella È una cosa con cui puoi interagire Ed è una cosa importante Da fare L'esperienza Si funziona Ed è orribile Ah vedi Che male Conti il pad Quando la luce Accendi Accendi e spegni Ah quando Fa il flick Spoto il pad Guarda che bello Guarda che bello Quello è il verde Perché sto bene Davvero Infatti è giallo Perché non stai Ma va Ma cosa mi stai dicendo Mai Sere Comunque impara da lei A lanciare le robe Per distrarre i nemici Grazie Fino a questi qua Immagino Ma questi qua Probabilmente Sono più in grado Di Di Schivarli Rispetto a A quelli base Probabilmente Eh Andiamo Bene dai Mi dispiace Che schifo Così Immagino Oh no Basta Che brutta idea No Per niente Sicuramente No No Che brutta idea Eh Sono là Da vent'anni E che vuoi No Io non ci vado E resti in questa stanza Sì Stiamo scherzando Soprattutto non mi sarei lanciato Come fagiore Così Che bell'idea Piano 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 Che che sono cavi d'acciaio Però Dai Vabbè Vabbè Tenta anni di cavi d'acciaio Alla intempera Eh infatti Questo gioco è pieno di brutte idee Vedo Vedo Dai Rientra dentro Vedete non ti piaceva Forza Dai Ok Penso che in questi casi Contro questi nemici Usare la pistola Sia la cosa più stupida Da poter fare Eh Lo è Tieni premuto Per equipaggiare Farà più male Probabilmente Tutte le armi Potremmo portare le armi rispetto al numero di fondine Le armi giunte sono costruite nell'inventare Dove potrei scambiarle con Ok Tengo premuto E poi seleziono Va bene Ok ok Ah ok Vedi Però là c'è roba Che vuoi dipendere Ok Ah devo per forza cambiarlo Va bene Grazie amico Questo lo voglio Intanto Eh Poi Di qua ci siamo arrivati Poi Runners Come runner Che schifo Cosa sono i runner Dici Non lo so Non lo so Perché Se hanno lo schifo in faccia Non possono vedere In teoria Ah i runner Sono diversi Guarda l'ombra Ah Sì hanno la testa Hanno la faccia Sì Cosa Mi devo scendere Che brutta idea Che brutta idea Sono morta a qualche Tu sei morta a qualche volta Oh Non dire Vabbè Era anche Quello là non mi vede se sto fermo Vero Ti ricordo Ti ricordo Ti ricordo Sì Non mi piace Allora Andiamo di far fuori questo Poi E uno è andato Chin Ti togliamo la sub Appena è regalata Chin Allora Eh Solo clicker Non ti Ok Questi qua che invece Vanno in giro Sì Parotto Ti lo prendi Va dalla luce È verde Eh è verde Perché è verde Perché sto bene Quando sto per morire Diventa rossa Guarda Che diventa azzurra La metto qua Così lo vedete Perché sei in totalità Ah vedi No non mi ha visto Vero Un attimo Sperato No Andiamo a prendere Quella in fondo Buon lavoro Gabriel Buon lavoro Posso prendere questa Senza a fare rumore Non ha fatto rumore Vero No dai Posso sperare di poterlo Prendere Ammazzate Senza No no Allora io Quello aspetto Che se ne vada lontano Vabbè Dietro la parete Eh no Aspetto che Perché fa il giro così Aspetto che si allontani Per non usare Il coltellino Non se ne sta andando Però Ok Allora lo prendo Lo strangolo Mori 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 Ok Mi sono fatta sentire Io mi sono fatta sentire Per quello che ho detto Non è bello Correre in queste stanze Tutte al buio Non lo è È proprio da film horror Che non ti piacerebbe Immagino Ah questo è girato Verso di me Che pezzo di merda Ok facciamo così Allora qua Ora Come girano loro Se lancio uno Corrono tutti Se lancio un mattone Corrono tutti Ti sento Per tutti Sì Sai che era Cazzo migliore Uccidere questo ora Ok Poi Hai visto Daniel Eh Di 20 regalati Cazzo Ok 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 Ci sono Ci sono Ci sono Dai Anche ora Ti sentissero Sarebbero solo due Fatti Eh sì Questi Dici Eh mi sembrava che Vabbè Oh Non è che è l'ultimo coltello Che troverai in vita Ah ma questo è un clicker Ah allora Fatti È fermo Non ti vede Ma E posso strangolarlo Il clicker Ti lo devi prendere Così Fatti Che brutti che sono Che brutti che sono Oh però ragazzi 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 Eh Sono stato bravo Lo sei stato No Sono stato bravo Lo sei stato Stato bravo Peccato perché era divertente Quando ti imprimivano per le stanze Era tutto Non credo Saresti morto Morto Sarei mortissimo Morto Mi inquieta io da morire Con tutto il bugio E questi cosi Non fu bella Non dirmi Per favore Allora Aspetta che qua c'è No c'è un cazzo Ah No confinti Cosa c'è? Confinti Ah Bravo Qualcosa Ah Non ho nemmeno Sparato un colpo Sono stato bravo E Creiamo un coltello Lo rifacciamo E questo ha il rumore Oh E dai Prendi una bottiglia Io pigio il pulsante Per fartela cadere nei piedi No Non mi sembra una buona idea A me lo sembravo Dai abbiamo di nuovo un coltello Eh Andiamo Andiamo Donne Donne E' arrivato l'arrotino E con l'arrotino E' arrivato il tempo Di andare Eeeh Certo Sì vedrò Vedrò di tenerli Un coltello Vabbè Eh Eh No ma sono così Da 70 anni Sto comodo Allora Allora Ok Ok Va va che bellino Dare la testa Sì Sì No No Tranamente no E' morto Sono stato bravissimo Bravissimo Ok Ma quello cos'è un frigorifero Penso di sì Un forno Un forno No sai cosa sarà Tipo un condizionatore Penso Che comodità Che comodità Rinfresca tutto l'ambiente E' vero Lo fa 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 proprio Buono Non lo farei Non si può No pensavo si potessero fare tipo camminata così sul muro Per andare dall'altra parte Sono stato bravissimo sono stato Sono tutto stealth Ma lo stealth Non mi viene troppo difficile Contro nemici che Il problema dello stealth Tra l'altro tento è un po' più concorso Oddio morirà vero Morirà Morirà Molto E chiaramente E chiaramente morirà Non c'è altro moro Quanto vado a bere Troppo per avere E' allegria Diciamo non guardarlo troppo intensamente No volevo vedere Tu sei Scuola Metal Gear Sprintersero Nessuno dei due Nessuno dei due Il mio problema con Il mio problema Con lo stealth Che in verità è un grande problema Di tanti altri giochi anche Cioè di tanti giochi E' il fatto che Molte volte io Non Vengo scoperto Perché non capisco I limiti Eh? Anche Ma perché non capisco I limiti di Quando posso essere scoperto E quando no Molte volte vengo Vengo catturato Dicendo Non ha senso Perché prima non me l'aveva fatto Non capisco bene le regole Ok? Mentre in un gioco tipo Mark of the Ninja In cui O sei stealth Oppure no E Cioè è duale la cosa E le guardie hanno Iconi di visione Eccetera Non è troppo facile Anzi Secondo me è fatto bene Quello Perché ti dà La sensazione di essere stealth Sì ma nella vita vera Non hai Iconi di visione Ok è vero E infatti Quello è il problema Di Il problema di Splinter Cell Eccetera In Metal Gear No? Ma lo sapete Che lui Non ha rifarifato Le live in tempo E tipo Ne ha perso Non so Devo fare Devo fare Il canale Per le live Di volte Lo so Non so Tu serve Ti fai E Lo so Qualcuno di voi Li ha scaricato Illegalmente Nel caso Lo perdoniamo Se ce le passa Lo perdoniamo Allora Aspetta che Crasco Una di queste E un medico Quanti medico Posso tenere All'infinito Cioè finché trovo roba Posso Cattare No no Più Più vecchie Tipo Novembre È andato Sì Roba tipo Novembre Ah così? Ma va Che bello Trava detto Già tre ore fa Di Eh sì Ma non ho visto Perché non vedo L'angolo dello schermo No Ah direttamente Una mola Trovo Ok Quindi amici Quando probabilmente Un amico infiando Può applicare il fuoco Anche agli altri Qualcice il amico Di trovare qua Lasciando la fuoco A parabola Ok Ah Vedi Mi è morato Che sono Parabola Canne per la bottiglia Canne per la bottiglia Ma io non voglio Sparare La moto La accende E poi la rimetti dentro Come se niente fosse Qua ci fa Qua 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 Un mattone Che ce l'abbiamo Già Amico Ha qualcosa Ha qualcosa E già Meet up with second fireteam At capital building Capital gold dome Girl No Non so Allora There Ok Va bene 160 cm Farà 160 Ok Ma una bibita La vuoi tu Alla c'è roba Ho intravisto roba Oh sereno Cosa basta Mi sembra una brutta idea Allora No non è che non mi piacciono Furtività clicker I clicker possono sentire anche se sei accovacciato Apriamo leggermente L per muoversi più sensiosamente Se qualcuno ti sente fermati Aspetta che in grano si può muoversi di nuovo Ok Che cosa piena di Di ansia E il mio problema non è che non Non mi piacciono Non ne sono capace Quello è il mio problema Vedo che mi vedono se si girano Immagino Tutto di me Non è che utilizzare il last pool Ah è un mattone Bell'idea L Per favore Quanto inquietante Quanto inquietante Fermo Non su di me Non venirmi a contro Non fa rumore Ah forse c'è roba che voglio Una bottiglia Ah no Dovevo passare oltre per oltre immagino No Dove devo andare Qua La donna Quella donna La prego Ah là Probabilmente Ah dobbiamo andare là Credo tu dovrai uscire Non posso lanciargli un mattone vero? Potresti prenderlo in mano e usarlo per l'acqua Funziona? Sì Non mi ricordo come Tappi però Ovviamente Ha corpo a corpo Però Posso afferrarlo e basta Sì ma ti segui E vabbè Vabbè sì Cioè sinceramente Non fare rumore Come hanno fatto a non venire in mille E' zitto E' zitto non te lo domandare E' un regalo di dio Ah cammina Ellie Cammina Ellie È lì Eh sì che è piena di loot questa zona Ma prima sono Sono anche Sono anche relativamente buono Come roba Puoi andare a ammazzarli tutti vai No Allora niente Non penso convenga Ellie stai salendo Ellie 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 Allora o sali O sali O sali O sali Scivolava su di te E niente Ok Quindi a posto Ah quella è vera È la remastered Sì Dai No no la mia ebra pura Stai tirando Eh Troppo Sei allì To where we going Tess Uh Capital building In questa direzione Eh così Ah là Ah non c'è niente Io posso Peccato Sì Infatti Tra pochissimo Chiuderemo Supereremo questo camion E ce ne andiamo Vabbè Sennò Anche tra non No Che lo dico io Quando Quindi Spaccare Piano piano Infatti C'è tra poco Uno Non lo so Che cavolo Come sono andate Loro Non sono andate Ah là C'è C'è Delle bestie Qua Assolutamente Vedi Ma cosa faccio? L'uccido? L'angola Dici Eh ma Eh Faccio rumore Sì Ma poi mi attaccano Di passare Se vuoi passare Senza farmi Dai No posso passare Da là Credo la porta Sia Da là No Le azioni Strat come straggolamento Non fanno Ah vai Ah ok va bene Allora Ok semplicemente I clicker Possono essere Afferrati E uccisi Solo con Fa tutto bene Mi ha chiaramente guardato Oddio Abbiamo la testa Abbiamo la testa Un po' Leggera Sì Tutto bene Un cazzo Un cazzo Tutto bene Con che pedata Straforte Fa No Sì sì no Ok era l'ultimo Zombie però Con quanta Violenza Ma è Però troppo Gli ha fatto Esplodere la testa Con un calcio Questo è il piede È davvero Cioè è come non avercelo più Per il sparmismo E scarpe Sicuro Ok quindi via Oh c'era Eh sì La nostra vita è fatta Di tirare Sì sì Però dai È comodo Che sono tutti così Ma poi tutti All'esterno Cioè Che usi Queste Ma infatti Non ho Sì sì Io voglio un negozio Che si chiude così Dall'esterno Lo aprono tutti Esti cazzi Perché io mi hanno detto Siamo Siamo Sì Ok è buono È buono È buono È buono Sì Sì Ok Guardate dentro la stanza Prima Ho qualcosa In te Sì Questo mi è piaciuto Questo devo dire che mi è proprio piaciuto Come dobbiamo usare questo place Ah solo tramite tavolo da lavoro Un po' di potenziare le cose Mondine per arma Ah io ce ne ho 53 Capacità caricatore Velocità di fuoco Velocità di ricarica Altrimenti non avrei Avrei voltello Velocità di ricarica Velocità di fuoco Eh sì Viondo Quelli volevano darti una mano E ti sei chiesa tutto il cazzo Eh sì Andiamo a aumentare anche Sì Ok Va bene Ora devo vedere di andarmene Forse Bella l'idea comunque di dare Le molotov con lo stesso posto Dei medikit In verità C'è il caso Stava ad avere qualcosa di strano Invece Quindi niente clicker qua Allora E' da calci le cose sta qua Che che fa? Ha buttato giù il vaso Ha rotto il vaso Lo sapevo Se può rompere il vaso Sta qua Va a casa della gente A rompere i vasi Ok ok Sì si sale Dove siamo in un museo? Sembra Museo di storia americana? Ma poi perché c'era un vaso prezioso lì? Siamo in un museo E non so Mi piacciono le cose prezioso Perché c'era una piastina delle luci? Vediamola Cambia qualcosa Non posso vedere Solezionabile Niente di Incredibile Quindi ora ci sono i Un museo Un'altra di queste cose Sono centri di anni Sì? Noi Ci sono i cosi I clicker vestiti da Abramo Lincoln Esatto Funziona così no? Se sei un museo Sei vestito da Abramo Lincoln Lo scemo Sto continuando a fermare Senza la stessa Andiamo avanti Non lo so Cosa dovevi fare Quanto forte Joel Sto bene Cazzo E niente dai No dai Sere Non dirmi che ce n'ho altri da fare Da uccidere Aspetta Questi sono clicker o No Non sono clicker Verba sono Vabbè No Non clicker E allora ora si Merdo Tess Dovevi Ok Ok Vediamo dal centro delle stanze Dove probabilmente loro girano Ed è facile Mi piace che la testa sia a mattone per raggruppare in molotov Però costa una molotov Però costa una molotov Sembrano un po' dei contatori Geiger Ah tu fai così Questo tipo di filo di potana Quindi Piano piano Vabbè ma noi andiamo avanti Noi andiamo avanti Sopra o sotto secondo te? Non è sopra perché sono asciutanti E anche perché non è sopra Ah cosa? Cosa? Mi piacevano Che cazzo stavo vedendo madonna Hai visto? Guarda Corri mano Mi sono cagato perché mi sembrava una mano che faceva così Quanto? E' troppo merda Ok Ok Dai Lo Allora Andrei di strangolamento Ce l'avevo provato E hai distrutto la porta Eh sì Merda Dai Non l'avevo colpito Pezzo di merda Ah Vabbè A posto? Un cazzo a posto Uno due Che male Usa corsa veloce L1 per scappare Ok Vabbè però dovremmo un attimo fare qualcosa Basta Giù 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 Oh Oh Che cavolo Ma scusa io Sono un po' scemo Ho modificato questa mettendoci mille cose E usi l'altra E uso l'altra Questi Più scemo sono Mi piace un po' di masochismo Vero Tutte queste bottiglie in un museo no? La raccolta differenziata non la facevano? No Dai è andata anche questa ragazzi Guarda è giorno Guarda che bello però No? Classi Vai qui Sì Infatti Fa voglia Per non salire Siamo poi E lì Ok Così immagino Ma stai qua Eh Lì Arrivo Non posso andare più Però Immagino sulla cosa gialla Trastabile da morire Ma proprio da morire Nel senso che ci puoi morire Ok Io non lo farei No? Soprattutto con quanto a polvericcia No 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 Soprattutto con Fly Primo mese di Ma che carino Di sub Grazie mille Grazie mille Adesso Ti arriva il link Per il telegram Di sub Grazie mille Come stai? Non è caduto Eh per poco Eh per poco Dai Mancano solo Sette chilometri Vero Vuoi che sia Tanto non c'è Io vuoi che sia Ah siamo arrivati Ok dai Mancano duecento metri Dai E dietro l'angolo Non è proprio dietro Dietro l'angolo Ma Dai Dietro l'angolo Faccio così Allora Eh non volevo aspettare Guardati Guardati male Perché sono Uno che fa questo Un bigliettino No dai Cosa? Vediamo Speriamo Speriamo tanto di no Speriamo tanto di no Ordini Fattugliare l'aria Di Rendezvous 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 Assicurarsi che non sia Non vi sia presenza militare Prima di spottare la ragazzina Al prossimo rifugio Assicurarsi che la ragazzina Si è ben nutrita In salute La sua sicurezza E l'importanza capitale Ovvia Amen Ah si? Non mi pare Andrò tutto Sì certo Sì certo Sì certo Sì certo Sì 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 Non conosci neanche tu The Last of Us È molto molto bello Sì è molto bello So che è molto bello Non ci ho mai giocato Penso tu ti debba Di fare Mi catesse Mi catesse Mi catesse Mi catesse La Non è che devi spostare Il posto della stazione Dici Ah questo Sì può essere Può essere Hai proprio ragione Hai visto Conti 2015 Mi pare Può essere Sì Mi pare di sì Scusi Ma volete farvi schiacciare Game of the year Con oltre 200 premi Non so di cosa Di che anno Bene Chi si sala Chi si sala 2 E via Ficco e fiero Fatta È andata E ora esplode tutto No Ho l'impressione Che andrà malissimo Dai Almeno ci prova No? Che schifo comunque Quest'acqua Io non ci andrei mai Neanche da vestito Le grandi infezioni Nell'acqua Vabbè È la meno Al momento A meno che non è essere zombie L'infezione Oddio Comunque Si muore anche di infezione base Non per forza Devi essere mangiato Da uno zombie Anzi Penso che in questi Geni di cose È più facile morire Per Per malattia Bene Dai Guarda la trama Leggi dopo Che sta facendo Tess E invece Lei è stata morsa No Lei è stata morsa Mossa È un po' sì È stata morsa Mossa Ah sì No Ok No È il mio regalo È stata morsa Sì Eh sì Eh sì Beh 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 Eh Madonna Qua Ho detto Che era stata mossa Si vedeva Perché chiaramente È disperata Non Hai Un Uno Hai Un 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 Ho una sorta di obbligazione per me, quindi ti riuscirai a Tommys. E tanto è già morta. Eh già. Eh già. Come out. No, no, just go. Just fucking go. Ellie. I'm sorry, I didn't mean for this. Andiamo. Ciao Tess. Ruffo. Dai, la prima volta lo proviamo in italiano e sennò ci vengono le conti. Ma io non mi guardo anche in italiano, quindi. Non ci vengono le conti. I can't believe we did that. Stop. We just left her to die. Stop. Stay close to me. We have to move. E direi che sì. Qui salviamo. Abbiamo ucciso un'altra persona e basta. Esatto. Quindi direi che per oggi è abbastanza. Grazie per essere passati. Noi ci rivediamo domani, sempre alle 2. Questa domenica molto probabilmente appunto D&D. Vi so dire molto probabilmente domani. Fai 5 metri mi dicono. Facciamo 5 metri. Ah va bella, tipo amore. Per quello. PC. Vediamo. Oh no. Ok. No. Salviamo qua, dai. Salviamo qua. Salviamo qua. Anche perché sono quasi le 5 e Ugo non è ancora uscito. Oh no. Eh. Quindi. Vomelo Ugo. Già. Quindi, ragazzi. Grazie per essere passati. Noi ci... Ah, volevo vedere te si morta. Va bene. Ok. Eh. Niente. Noi ci rivediamo appunto domani. E... Ciao. Ciao ciao.